E già è conosciuto in comunità che la scuola torna a perdere un caso per lo che è assunto di Werkster Un Werkster aveva scuola corta e è scuola a perdere Ma non è conosciuto che una volta che aveva sentenza a favor di un Werkster e si è contato per un altro Werkster che aveva scuola che aveva affrontato con decenni di altri casi di Werkster di scuola e con tutte le conseguenze di questo è l'opportunità E effettivamente ci si guarda con il nostro Presidente che aveva scuola di tutta forma per scappare la scuola per non perdere il sangue che aveva scuola con il cangrello E pensavo, già l'ultima cosa aveva una riunione tra il Ministro di insegnanza il signor Henry Cruz che aveva scuola con la scuola e la scuola pubblicata in medio di comunicazione che aveva un buon ambiente che aveva scuola con la scuola che aveva scuola con la scuola ma aveva scuola per capire che aveva scuola con i consigli di ministri il governo lo fixe il tema e lo vengono con un aumento di subsidio La scuola poscapa su pellejo E diccio Scuola Hace un'appellazione Riveverso Rivecepa Pa guardare Teche a pierna Non c'un su un caso Teche a pierna Vim Conselho di Menester Ha tommo lugar E Non può Haia un'formula Paginca Minione De e asunto Da logico Sobre a CFT E a palabrazione De un Consejo di Menester Di reino ultimo Da Cun non portin aumento Di gasto innecesario E den caso haki Una vez podo una scuola Tutti i altri paesi Exigirei un trato Igual Que me trattano Di millone Di florin Di gasto innecesario Pa' il paese Ruba Que me Non ma sale a fuoco E to' Despois E uvega Ta' siggi I Menester Ta' pisa scuola E scuola ta' un uvega Cu Menester Nos Copiarno Ta' vai fixe I E uvega Aki Vopor compare Con lo siguiente E uvega Di Menester Scuola També Scuola Un ladrón Ta' dretta bucaz Eta corta bu pertenencia No? Anto Abbo Como doño Di acas Ta' ayuda E ladrón Pone tu bu pertenencia De epicop De ladrón E sei Eta Lo que ta' passando Abor aqui Menester President E Menester De Educaxion Quer usa Placa De Pueblo Pa' tapa E Mismanagement De scuola E a baia Sina leu O a involucra Dei o exército Ta' medente Pa' dei o exército Digo Pa' dei o exército Pa' dei o exército E se te Departamento Dei assuntos Curídicos E de lei Di copiar Contigo Imaginavo E deio Dei o exército No por Haci Otro Coz Co' Concluir Co' Lei Da' Lei Scuola Da' Actua Contra Lei E Unico Solución Da' Cumpli Co' Lei Dei o exército Tampouco Menece Presidente O por Haya Un salvavida Però E O L'haya Ta' Continua' E Pese Boutinho Haci Bómez E Pregunta Contra Possibile Co' Un Co' Pierno Que Usa Placa Di Pueblo Pa' Tapa E Mal Manejo Di Escola A Mi For Dijope Tempo Cava A Binta Bisa E Mes Un Co' Co' Tres Sentencia De Tres Diferente Jueze Amisa Escola A Violar Lei E Mal Gastar Placa Di Pueblo E Noti Otra Solució Con Respetar Lei Nos Menece Presidente Jurista Con Bofete Di Abogado Es Saco A Quina Bon Por Viola Lei Però E Ta' Un Vuega Político E Un Vuega Político Quibra Red Pajase Como Si Fuera Da Nostra Contra Scowa Contra Wester Etc Mientras Cú Esa Masha Bon Cú Bon No Por Viola Ley Cú